Prima del concerto le foto con il sindaco Menesini e componenti della giunta, poi due ore di concerto per un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone da tutta la Toscana. È stato un primo maggio che verrà ricordato a lungo quello organizzato a Capannori dall'amministrazione comunale con il concerto gratuito di Roberto Vecchioni. Accompagnato dalla sua storica band, il professore ha proposto le melodie del tour Il Mercante di Luce che prende il nome dall'ultimo successo editoriale dell'artista. Nuove canzoni alternate comunque a intramontabili successi. Vecchioni ha aperto lo spettacolo ringraziando Capannori e sottolineando il valore di questa festa. Il primo maggio è una nostra data, è una data di tutti quelli che lavorano, è una data di tutti quelli che hanno praticamente distrutto la loro vita per lavorare di fronte ai padroni, di fronte a tutti gli altri eccetera eccetera. E allora sono ancora più orgoglioso di essere qua con voi. Il concerto è stato promosso dal comune in collaborazione con la regione toscana per quello che ormai è considerato uno degli appuntamenti musicali più attesi in Toscana in occasione della festa dei lavoratori.